Il Pescara sarà teatro di un evento cicloturistico, il primo nel suo genere, che avrà diversi significati. Vogliamo spiegare il senso anche di questa iniziativa che vuole servire anche a promuovere il territorio abruzzese? Ci sarà il primo evento, il primo raduno cicloturistico avventuroso del centro-sud, in Abruzzo sicuramente il primo. Questo evento serve a promuovere in sostanza l'Abruzzo, perché l'Abruzzo è una regione bellissima, poco conosciuta. Dal punto di vista avventuroso, naturalistico e selvaggio, questo è un interesse nostro. E tutto questo con la bicicletta, quindi anche i ciclisti dall'Italia verranno in bicicletta, pedaleranno fino a Pescara per assistere a questo evento. Sono i Montanus, due ragazzi aquilani, famosissimi in tutto il mondo, che raccontano l'Abruzzo con i loro video, con le loro storie e con le loro tracce GPS. E questi ragazzi, insomma, in passato hanno avuto un grande successo proprio per questo loro modo di andare in bicicletta? Sì, loro praticamente sono molto, molto, molto wild, però raccontano anche un Abruzzo, diciamo, percorribile anche da persone non esperte, quindi a 360 gradi. Quanti saranno i cicloturisti che arriveranno a Pescara? Allora, noi ci aspettiamo, diciamo, almeno un centinaio di persone. Queste persone, qualcuno anche in bicicletta da lontano, con i bagagli, le ospiteremo chiaramente a Pescara, faremo conoscere la nostra città anche persone fuori Abruzzo. Parliamo di ragazzi che arriveranno in mountain bike. Sì, mountain bike, biciclette da strada, gravel. Abruzzo è una regione che si presta a tutto, a qualsiasi tipo di bicicletta. Parliamo di ragazzi.